L'amore bestiale è il titolo dello spettacolo. Barbascura X è un divulgatore scientifico. Lo spettacolo è una rassegna dei metodi di accoppiamento più bizzarri, strani e inconsueti del regno animale. Per cui Barbascura X, che ha un dottorato in chimica, quindi dalla sua agli studi scientifici che lo sostengono, racconta dell'amore tra animali. È uno spettacolo che fa molto ridere e si imparano anche tante cose. Immaginiamo anche perché, da quello che ho capito, non sono coinvolti gli umani. Esatto, in minima parte. Non ci sono umani. Ho visto anche tanti bambini assistere a questo spettacolo e goderselo.